Voi introducete il tema dei ricassificatori e molti interventi, ad esempio sul voto di fiducia di Fratelli d'Italia, ne è una dimostrazione, e dite che volete trasformare l'Italia in un hub del gas. È evidente che avete fatto una scelta, una scelta contro la storia, una scelta contro le generazioni future, una scelta contro la scienza, una scelta a favore degli interessi di chi oggi sta, non guadagnando, straguadagnando attraverso i profitti energetici legati alle fonti fossili. Non è un caso, è lampante, è documentato che voi vi siete scarati dalla parte di chi oggi ha fatto guadagni per decine di miliardi di euro attraverso gli extra profitti e non avete avuto il coraggio di fronte al popolo italiano di dire salviamo le tasche degli italiani e direzioniamo questi extra profitti. No, non lo avete fatto, a tal punto che la tassa del ex Premier Draghi, pensate, un liberale spinto come Draghi che vi ha dato una lezione da questo punto di vista rispetto alle questioni sociali, che è incredibile rispetto alla questione energetica dell'extra profitto, ovviamente su molte altre cose non siamo stati assolutamente d'accordo con Draghi a tal punto che ovviamente stavamo all'opposizione. Detto questo però c'è un problema incredibile su cui... Grazie No, signor Presidente, abbia pazienza Anche qui sta parlando... Perfetto, ok Abbiamo ricepito, prego Prego È importante che lo ricepisca il sottosegretario Barbaro e la deputata Ma ha fatto il compleanno E gli fai gli auguri di compleanno in un altro momento, abbia pazienza Detto questo, andiamo avanti Allora 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 Grazie.